Stanno reagendo, Presidente, prego, stanno, stanno, attenzione però salve anche dentro il palazzo, appunto che si discute di finanziamento alle comunità giovanili, ce l'auguriamo, speriamo che sia la grossa coalizione, noi siamo ancora in attesa di sapere quali sarebbero i nuovi studenti e i nuovi progettuali, perché stanno regalando. Stanno regalando, stanno regalando, stanno regalando, stanno regalando, stanno regalando. Stanno regalando, stanno regalando, stanno regalando, e i diopoli, per favore, per favore. Grazie a tutti. 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 a tutti.